La tua mano riceverà una grande quantità di denaro. Gli angeli ti annunciano che entro breve tempo riceverai, grazie alla grazia di Dio, una notevole somma di denaro da fonti sconosciute e inaspettate. Dio riconosce che hai passato la notte insonne, preoccupato per le bollette, i problemi di salute, i tuoi figli e il tuo futuro. Ma abbi fiducia in me perché ti provvederò oltre ciò che ti aspetti. Se credi che la coscienza divina ti protegge e ti guida, sperimenterai una valanga di denaro che ti permetterà di pagare tutte le bollette e i debiti e persino di fare qualcosa in più per i tuoi figli. Se credi in Dio, metti mi piace a questo video, ho dichiarato vittoria, pace, guarigione e benedizioni finanziarie sulla tua vita. Ricorda sempre che la mia parola è definitiva e non permetterò ai tuoi nemici di fare del male a te o alla tua famiglia. Scrivi 11 e 11 Se hai fiducia in Dio, Gesù dice che lo stress, la frustrazione e le notti insonni finiranno presto quando li sostituirò con chiarezza, pace e completezza. Caro Signore, il tuo amore è più grande di qualsiasi cosa in questa vita. Aiutaci a ricordare ogni giorno le tue tante benedizioni. Il tuo amore e la tua grazia sono infiniti, commenta per affermarlo, un cambiamento significativo è in arrivo nella tua vita. Noterai come passi dalla stagflazione alla fluidità. Dalla scarsità all'abbondanza, dalla confusione alla chiarezza, dal dolore alla pace e dalla povertà alla ricchezza. Preparati per una settimana piena di meravigliose ed entusiasmanti notizie finanziarie, scoperte, sorprese e benedizioni ancora più grandi. Siete pronti ad accogliere tutto questo con fede e gratitudine? Se è così, scrivi 11 e condividi questo video con qualcuno di speciale che confida nel potere divino. Il creatore ci sta dicendo che sta per aprire porte che sono rimaste chiuse per molto tempo. All'improvviso la tua vita sarà inondata di miracoli che porteranno cambiamenti significativi e positivi. Quindi guarda questo video fino alla fine perché Dio ha miracoli inaspettati per te questa settimana. Le tue benedizioni triplicheranno e diventerai un esempio vivente del fatto che tutto è possibile quando Dio è al tuo fianco, dimostrando che i miracoli divini sono reali e hanno il potere di trasformare. Stai per entrare in una nuova stagione di libertà, prosperità e abbondanza, scrivi 1212 se credi con il cuore in questo messaggio. Dio dice che non ho mai ignorato le tue preghiere, anche se a volte rispondo loro in modi che non ti aspettavi. Stai entrando in una stagione di miracoli e continue benedizioni. Mando i miei angeli davanti a te per distruggere qualsiasi piano del nemico. Credimi, i prossimi otto mesi saranno fantastici. Riceverai benedizioni come mai prima d'ora e le tue sfide e i tuoi problemi saranno risolti in modi inaspettati. Tutto nella tua vita migliorerà. Ti sto inviando aiuto, risposte, guarigioni, benedizioni e miracoli. Il Signore ti benedica e ti custodisca, il Signore faccia risplendere su di te il suo volto, abbia misericordia di te e ti dia la pace. Congratulazioni esattamente alle sei di domani. Dio manderà qualcuno che ti sosterrà finanziariamente ed emotivamente. Digita 2.121 per riceverlo. Dio sta per elargire la sua bontà su di te. Dio ti dice che se lo vedi adesso, se continui a camminare per te stesso, troverai la benedizione più grande che tu abbia mai sperimentato in tutta la tua vita. Niente può fermare le benedizioni che ti arrivano. Sei stato scelto per ricevere questo dono e ora è divinamente tuo. Beato te. Amen. 1111, dice Angelis. La tua mano riceverà una grande quantità di denaro. Gli angeli ti annunciano che entro breve tempo riceverai, grazie alla grazia di Dio, una notevole somma di denaro da fonti sconosciute e inaspettate. Dio riconosce che hai passato la notte insomme, preoccupato per le bollette, i problemi di salute, i tuoi figli e il tuo futuro. Ma abbi fiducia in me perché ti provvederò oltre ciò che ti aspetti. Se credi che la coscienza divina ti protegge e ti guida, sperimenterai una valanga di denaro che ti permetterà di pagare tutte le bollette e i debiti e persino di fare qualcosa in più per i tuoi figli. Se credi in Dio, metti mi piace a questo video, ho dichiarato vittoria, pace, guarigione e benedizioni finanziarie sulla tua vita. Ricorda sempre che la mia parola è definitiva e non permetterò ai tuoi nemici di fare del male a te o alla tua famiglia. Scrivi 11 e 11. Se hai fiducia in Dio, Gesù dice che lo stress, la frustrazione e le notti insonni finiranno presto quando li sostituirò con chiarezza. Pace e completezza. Caro Signore, il tuo amore è più grande di qualsiasi cosa in questa vita. Aiutaci a ricordare ogni giorno le tue tante benedizioni. Il tuo amore e la tua grazia sono infiniti, commenta per affermarlo, un cambiamento significativo è in arrivo nella tua vita. Noterai come passi dalla stagflazione alla fluidità. Dalla scarsità all'abbondanza, dalla confusione alla chiarezza. Dal dolore alla pace e dalla povertà alla ricchezza. Preparati per una settimana piena di meravigliose ed entusiasmanti notizie finanziarie, scoperte, sorprese e benedizioni ancora più grandi. Siete pronti ad accogliere tutto questo con fede e gratitudine? Se è così, scrivi 11 e condividi questo video con qualcuno di speciale che confida nel potere divino. Il creatore ci sta dicendo che sta per aprire porte che sono rimaste chiuse per molto tempo. All'improvviso la tua vita sarà inondata di miracoli che porteranno cambiamenti significativi e positivi. Quindi guarda questo video fino alla fine perché Dio ha miracoli inaspettati per te questa settimana. Le tue benedizioni triplicheranno e diventerai un esempio vivente del fatto che tutto è possibile quando Dio è al tuo fianco, dimostrando che i miracoli divini sono reali e hanno il potere di trasformare. Stai per entrare in una nuova stagione di libertà, prosperità e abbondanza, scrivi 1212 se credi con il cuore in questo messaggio. Dio dice che non ho mai ignorato le tue preghiere, anche se a volte rispondo loro in modi che non ti aspettavi. Stai entrando in una stagione di miracoli e continue benedizioni. Mando i miei angeli davanti a te per distruggere qualsiasi piano del nemico. Credimi, i prossimi otto mesi saranno fantastici. Riceverai benedizioni come mai prima d'ora e le tue sfide e i tuoi problemi saranno risolti in modi inaspettati. Tutto nella tua vita migliorerà. Ti sto inviando aiuto, risposte, guarigioni, benedizioni e miracoli. Il Signore ti benedica e ti custodisca, il Signore faccia risplendere su di te il suo volto, abbia misericordia di te e ti dia la pace. Congratulazioni esattamente alle sei di domani. Dio manderà qualcuno che ti sosterrà finanziariamente ed emotivamente. Digita 2.121 per riceverlo. Dio sta per elargire la sua bontà su di te. Dio ti dice che se lo vedi adesso, se continui a camminare per te stesso, troverai la benedizione più grande che tu abbia mai sperimentato in tutta la tua vita. Niente può fermare le benedizioni che ti arrivano. Sei stato scelto per ricevere questo dono e ora è divinamente tuo. Beato te. Amen. Beato te. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.